10 lezioni di miglioramento personale che possiamo apprendere da Goku Goku, il protagonista del popolare manga e anime Dragon Ball, è un personaggio che ha ispirato milioni di fan in tutto il mondo. Le sue avventure offrono diverse lezioni di miglioramento personale che possiamo mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. Costanza e determinazione, Goku non si arrende mai, indipendentemente dalle difficoltà che incontra. Impara a essere determinato e costante nel raggiungere i tuoi obiettivi. Allenamento costante, Goku si allena senza sosta per migliorare le sue abilità e diventare più forte. Dedica tempo ed energia allo sviluppo delle tue competenze e al raggiungimento della tua forma fisica e mentale migliore. Umiltà, nonostante sia incredibilmente forte, Goku rimane umile e rispettoso verso gli altri. Cerca di mantenere l'umiltà e di apprezzare gli sforzi degli altri. Spirito di squadra, Goku comprende l'importanza di lavorare insieme agli amici e ai compagni di squadra per sconfiggere nemici più potenti. Coltiva relazioni positive e impara a collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni. Empatia e compassione, Goku mostra empatia e compassione verso gli altri, anche verso i suoi avversari. Cerca di capire e condividere i sentimenti degli altri e di agire con gentilezza e comprensione. Coraggio, Goku affronta situazioni pericolose e avversari temibili con coraggio. Sviluppa il coraggio di affrontare le tue paure e di perseguire i tuoi sogni, nonostante le difficoltà che potresti incontrare. Avere una mentalità aperta, Goku è sempre disposto ad apprendere nuove tecniche e adattarsi a situazioni diverse. Cerca di mantenere una mentalità aperta e di essere ricettivo a nuove idee e approcci. Rispetto per gli insegnanti, Goku rispetta e apprezza gli insegnamenti dei suoi maestri. Cerca di apprezzare le lezioni e la saggezza che ricevi da coloro che ti guidano nella vita. Responsabilità, Goku si assume la responsabilità delle sue azioni e delle conseguenze che ne derivano. Impara ad essere responsabile delle tue scelte e ad accettare le conseguenze delle tue azioni. Non smettere mai di crescere, Goku continua a crescere e migliorare nel corso della serie, dimostrando che non c'è limite al miglioramento personale. Cerca sempre di migliorare te stesso e di superare.